è morto chi è che è morto? no no io non è morto nessuno è morto di nuovo loro eh si sono abbastanza equilibrati è meglio che aspettare in quattro da soli in quarto d'ora che trovi qualche che è che mi ha spinto porco credo quelle routine non te le puoi ficcare dritte dritte su preghia io non l'ho presa e poi se è dritte in porta madonna è nervoso che ti fanno venire questo branco e scusa non volevo avevo fatto un bel tocco è un bel tocco di fumo vuol dire figa mamma mia che non ho deviato questa è deviazione mia eh vaffanculo entra dentro ai mortacci vostri bravo bravo anch'io in otto su una palla va bene lo stesso l'ho visto era qua io ho fatto un passaggio a cazzo e sono andato in otto a tirarla dentro va bene va bene in otto perchè erano due macchine quindi erano quattro pneumatici implodi crisi non implodere ed è passato in mezzo attenzione attaccato del buco nooo scusi ma perchè mi deve così violentare in retromarcia i paraurti della mia macchina non so eh stavo aia 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 a porco il cazzo mi hanno appena imploso ha fatto doppia non penso sia come lol che c'è la pentakill e forno intanto fa tutto da solo ma forno volendo tiene testa a 4 persone a tempo con che tuffo carpiato è riuscito a imbuttagliela dentro se non mi hai insegnato te a stare dietro forno vabbè guarda cosa ti insegnate ho ucciso barretta 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 ho ucciso barretta 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 e come lo leggi? leggi carattere chirillico carattere chirillico carattere chirillico tu cablietto carattere chirillico no devi leggere simbolo indiano che fa crashare l'iphone simbolo indiano che fa crashare l'iphone pulsante nero che fa crashare android no? qual è il pulsante nero che fa crashare android? è l'ultimo che si sono inventati quelli dell'apple perché diceva eh no non è possibile che un carattere indiano faccia crashare apple e invece? e invece stiamo vicino a 3 a 0 in confronto a prima k ci stiamo impegnando di più o è una mia impressione? no 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 banta di culo? no bravura no ho calcolato Ichi te l'ho detto abbiamo dato due partite di vantaggio per farli sentire forti una partita di vantaggio ah una e poi gli spegniamo gli spegniamo l'esistenza così per meno ahahah ahahah tirano loro che più bisogno che ci andiamo noi tirano tutto loro guarda che bel gol guarda guarda eh tu? io tra l'altro l'hai mistata liscio 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 l'avete l'avete l'isciata l'avete l'isciata te forno? io l'avrei mistata proprio allora vi saluto mio ciao ero da tutt'altra parte eh no please io toccò tutti eh per favore si contenga lei oddio c'è quello di Natale oddio percato che ci abbiamo segnalato noi è sempre bello vedere le cose no no mi hai chiché che fino a fatto un tuo spirito natalizio cosa sei il grincio versione messicana ok basta ok basta no 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 Cavallo 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 che cazzo sta che cazzo sta è una persona orribile eh non capisca vado vai cavallo ah ma il teammates mi eh perchè hey dici cose strani quali droga elle sum dove ci faccio nel pie Ah, troppo in line, lada. Queste le altre domande su Quark. Ma porco il cazzo mi ha scartato sto qua, porca puttana. Baby, cosa ho fatto? Vai, vai, vai! Eh, dove? Eh, non me lo spavano! No, dai, non l'ho sminchiata male! Ragazzi, guardate la parata se si vede. Non si vede! Ho fatto una parata che... Ma l'ho fatta io la doppia parata, veramente. Io quello l'ho lasciata male. Io l'ho fatto solo lo sposto all'entro d'aria. Salvatelo, guardatelo. Eh, l'ho fatta io la doppia parata. Salvatelo, ti replay e guarda. Me l'ha data a me la parata. Una te, una. Figginimi. E appunto. Eh, ne... Niente cosa? Eh, ho messato tutto. Vabbè, quante volte dovrei dirlo io quando ho messo, scusa. Tutta. Altrimenti non è... Niente cosa? Non è... Niente cosa? E farei, farei... Passerei a prendere e farei... Niente, niente, niente. Per tutte le volte che l'ha messo. Ehi, niente. Ecco. Sì. Porca putta. C'è troppa gente. Scusa, forno... Tanto l'ha tirata fuori. Vieni a tolti. È vostra. mi hanno tamponato da dietro così era un po' brutto ma va bene lo stesso grazie sposto Chris, sposto la spalla sposto la palla sposto tutti ma non segno sposto la spalla ma non spallo non balli? questo che fa la finta adesso penso ai nemici voleva fare la finta dai con due di v due di bus pori v v v con due bus ah no hai la la palla i tormentoni quelli belli eh, quelli di Luke eh, vado a dire vai Kiki che cazzo sta di ma che è sto stronzo ma che è sto stronzo che ti ha segnato Gleb con Slav tantissimo nell'immagine chi? no, il nostro compagno Slav non sei mossa ma forse non mi stai dicendo che è gol SIA si, disabilitando per 4 secondi per porca miseria, perché? ah, fu mortissimo ma è quello che ha segnato che... non c'ha più il cosmo no, no, no è il problema? non c'è più cosa? non c'è eh, che palla rottissima vai Chris oh mio dio, è gol si, è gris magari peccato, per un pelo ed è già era sperfetta no, l'ho toccata l'ho toccata io però sbaglio, fai te te la raga che mi recuperano no, forse l'ho toccata lui anche eh, si perché per come ero girato io facendo un commento tecnico aveva dovuto battere sul palo tutti sulla palla sulla palla io le palle cosa? non c'erano più i secondi ah già ah mica, sono arrivato tipo millanta terzo quando a comune ero bruttissimo io vinto una bandiera di wow, 150 ponti trattata